Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Telestense, parleremo a breve di cronaca ma anche dell'allerta gialla emessa anche sul Ferrerese per temperature estreme, poi parleremo di economia, faremo un focus sul territorio estense e poi vedremo diverse situazioni che interessano il litorale ma non solo, parleremo di Granchio Blu, di West Nile ma anche di una scoperta molto importante fatta nel Codigorese, poi spazio allo sport con il basket e la canoa ma apriamo questa edizione con la cronaca come detto perché è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale l'uomo di 49 anni di Comacchio che sabato sera scorso mentre era a bordo del suo scooter ha investito Pina Quaglia, una turista milanese di 92 anni mentre attraversava le strisce in via dei Mille a Porto Garibaldi, donna che ha poi perso la vita dopo l'incidente. L'investitore dopo le cure è stato trasportato all'ospedale per accertamenti, tra questi sono stati svolti anche test di rito e da quello relativo all'alcol, da quanto emerso sarebbe scaturito un valore superiore al limite massimo consentito. Le indagini poi stanno proseguendo su un incidente mortale. E adesso cambiamo argomento perché la morsa del caldo non accenna ad attenuarsi sul Ferrarese e su tutta la regione Emilia Romagna dove in alcune zone, territorio estense compreso, è scattata l'allerta gialla. Scatta l'allerta gialla per temperature estreme nel ferrarese martedì, litorale basso ferrarese esclusi. E quanto è emesso la protezione civile, l'ARPAE Emilia Romagna, previste temperature massime attorno a 38 gradi nella zona di pianura tra le province di Ferrara, di Bologna, di Ravenna e di Modena. Ancora almeno tre giorni di caldo torrido in Emilia Romagna e quanto prevedono le previsioni meteo, una situazione di disagio bioclimatico forte su tutta l'area di pianura emiliano-romagnola. Il Ministero della Salute infatti è esteso fino a mercoledì il bollino rosso per la città di Bologna, l'unica monitorata in regione, ma l'ARPAE estende sempre fino a mercoledì la previsione di disagio bioclimatico da Rimini a Piacenza, fatta eccezione per le aree montane e collinari. Infatti, secondo i meteorologi, non si escludono temporali sparsi di breve durata sui rilievi che potranno estendersi alla pianura circostante. E adesso passiamo all'economia. Nel ferrarese si prevede una crescita più robusta rivisto al rialzo. Il valore aggiunto che passa dal più 0,4% al più 1,2% è quanto emerge dalla lettura dei dati Prometeia della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna. L'osservatorio dell'economia della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna aggiorna i conti economici ferraresi rispetto alle stime di aprile. La massima istituzione economica del territorio, infatti, rivede rialzo sulla base degli scenari delle economie locali realizzati da Prometeia edizione luglio 2024, il tasso di crescita del valore aggiunto della provincia di Ferrara, stimato in termini reali in 8,4 miliardi di euro, dal più 0,4% sale al più 1,2%. Benché positivi, sottolinea la Camera di Commercio, i dati confermano alcuni elementi di criticità soffrono l'agricoltura, l'industria e l'edilizia, compensate dall'apporto positivo dei servizi. In ripresa all'export, che dopo le diminuzioni registrate nel 2023, meno 10,8%, potrebbe segnare per quest'anno un incoraggiante più 3,6%, rinviando un recupero ancora più consistente al 2025. Nonostante un contesto mondiale in decelerazione, evidenzia il Vice Presidente della Camera di Commercio di Ferrara e Ravenna, Paolo Govoni, la rinnovata competitività e la storica flessibilità hanno permesso a tante imprese ferraresi di conseguire risultati positivi e di trovare nuovi spazi di mercato, ha detto Govoni. Tra i problemi riscontrati, ricorda il Vice Presidente, la difficoltà per le imprese nel trovare figure professionali adeguate. Nel dettaglio, nel 2024, le difficoltà nelle catene di produzione internazionali, le tensioni geopolitiche e la domanda estera più contenuta ridurranno del meno 1,2% il valore aggiunto reale prodotto dall'industria in senso stretto ferrarese. Con la ripresa della domanda estera e quindi delle esportazioni e la leggera crescita dei consumi, nel 2025 il valore aggiunto reale prodotto dalla manifattura ferrarese invece potrà avviare un nuovo ciclo positivo del più 0,9%. Passiamo adesso in provincia, dove proseguono i lavori per il nuovo ponte sul torrente Idice, lungo la provinciale 38 Cardinala, a Campotto, nel comune di Argenta. Il primo agosto scorso venne chiuso al traffico il tratto stradale interessato dal cantiere, ora si è conclusa la demolizione dell'imparcato. Il tempo previsto per la realizzazione del nuovo ponte è di 9 mesi, con un investimento di 2 milioni di euro finanziati dal Ministero delle infrastrutture. Il nuovo ponte di 80 metri prevede anche la realizzazione di un percorso ciclopedonale protetto. E ora rimaniamo in provincia per parlare di Granchio Blu a Goro. Oltre un anno fa esplose l'emergenza per un fenomeno che sta ancora colpendo pesantemente un intero settore fondamentale per il territorio. La situazione rispetto all'anno scorso per il sindaco di Goro è anche peggiorata. Sentiamo. Rispetto all'anno scorso la situazione è peggiore, il Granchio è triplicato in quantità, proprio l'altro ieri ne hanno raccolti 170 quintali ed è l'unica maniera che abbiamo per contenerli. Li portiamo all'inceneritore, in discarica, un costo a carico dei pescatori che purtroppo non riescono più a sostenere. La Regione Emilia Romagna ha stanziato in questi giorni un milione di euro per far fronte a questa spesa, la ringraziamo, ma la nostra produzione ormai si è zerata. Non c'è nessuna possibilità di un nuovo avvio per la nostra attività e come ricordo sempre il 90% della mia popolazione vive di questo. Ricordo che la nostra sacca è nel Delta del Po, che ha avuto riconoscimento nel 2015 dal Mabonesco che rientra nel sito di Natura 2000 ed è in gran parte in riserva naturale. Il Granchio devasta, mangia tutto quello che trova nel suo cammino e quindi questo ambiente, questa biodiversità così fragile, viene distrutta, verrà distrutta in breve tempo. E adesso passiamo alla sanità per parlare di West Nile. La malattia portata dalle zanzare l'Emilia Romagna alza il livello di protezione, ma non nel ferrarese. Sentiamo. La regione Emilia Romagna intensifica le misure di prevenzione contro il virus West Nile, con particolare attenzione ai comuni delle aziende USL di Bologna, Modena e Reggio, dove il virus si è più diffuso nelle ultime settimane. Nei luoghi frequentati da persone a rischio come strutture socioassistenziali e ospedali si dovranno effettuare trattamenti disinfestanti settimanali sino al 30 settembre. L'assessore alla salute Raffaele Donini sottolinea l'importanza delle azioni di questo tipo per prevenire malattie virali trasmesse proprio dalle zanzare. Non saranno però effettuati trattamenti adulticidi nelle scuole primarie e nei nidi, poiché le zanzare Culex, che trasmettono il virus della West Nile, sono attive soprattutto di sera e i bambini sono più vulnerabili ai prodotti chimici usati. Tutti i comuni in ogni caso, spiega la Regione, sono invitati a rafforzare la comunicazione ai cittadini sui metodi di protezione dalle zanzare e a mantenere rigorosamente i programmi di lotta antilarvale con turni di distribuzione dei larvicidi ogni 15 giorni fino al 30 settembre. Inoltre si devono effettuare disinfestazioni preventive per eventi serali all'aperto e garantire la manutenzione dei parchi pubblici rimuovendo o trattando i focolai larvali. Proprio per informare i cittadini, la Regione ha lanciato la campagna di comunicazione Spuntiamola, che fornisce tutti i consigli su come proteggersi dalle zanzare e limitare la loro diffusione. Il piano regionale di sorveglianza e controllo delle arbovirosi per il 2024 prevede un incremento delle risorse per la lotta alle zanzare e le azioni rafforzate contro la dengue. Il piano dispone di un budget di 1.120.000 euro, di cui 120.000 euro destinati alla comunicazione nelle scuole e un milione di euro per supportare le attività di disinfestazione comunale. La sorveglianza sanitaria per le malattie come cikungunya, dengue, zika e west nile è attiva tutto l'anno e viene intensificata dal 1 maggio al 31 ottobre. Nel medesimo periodo è operativa anche la sorveglianza etomologica gestita in collaborazione con i diversi enti regionali. La prevenzione nei disturbi del neurosviluppo ha un ruolo importantissimo nei primi mille giorni di vita del bambino e lungo tutto l'arco dell'infanzia e dell'adolescenza. Richiede la tempestività di fronte a segnali inattesi nei comportamenti dei bambini e richiede anche la consulenza degli specialisti della neuropsichiatria infantile che a Ferrara ha sede in ogni distretto e in città e alla casa di comunità Cittadella San Rocco. Gli interventi di riabilitazione o altre terapie sfruttano soprattutto il gioco e richiedono sempre la sinergia tra più specialisti e innanzitutto però l'alleanza con la famiglia. Allora facciamo un approfondimento di questo estratto della puntata del filo d'Arianna. Il neuropsichiatra diciamo ha il ruolo un po' di coordinare questo progetto riabilitativo e di definire gli obiettivi di trattamento secondo un pochino della finestra temporale e degli esiti attesi quindi è un lavoro ovviamente in equip. È un lavoro in equip e lei diceva in un'ottica sempre di prevenzione. Sì io credo che la neuropsichiatria infantile in generale ha un mandato nella prevenzione centrale perché lavoriamo con i bambini e lavoriamo per accompagnarli a sviluppare le competenze future e quindi tutto il nostro lavoro è nella prevenzione. Quindi è un'ottica riabilitativa quindi far emergere delle competenze che ancora non ci sono oppure riabilitare cioè quindi potenziare delle competenze che invece già ci sono ma che hanno bisogno di un intervento di supporto diciamo per svilupparsi. Quando parliamo di neuropsichiatria infantile possiamo fare riferimento a delle problematiche di tipo psicologico oppure neurocerebrale e quindi sono tante diverse problematiche dalla patologia più grave alla, lei ci diceva, le sue colleghe, a dei comportamenti che possono essere superati. Sì esatto, possiamo avere delle condizioni magari transitorie quindi noi diciamo parafisiologico comunque più benigno oppure delle condizioni invece su base organica quindi legate a una causa nota, pensiamo magari a una causa genetica, sindromica o non nota quindi anche lo spettro di gravità è sicuramente molto ampio, molto ampio da condizioni più semplici in cui il nostro intervento è magari limitato nel tempo, nei primi mesi di sviluppo, nei primi anni ha invece condizioni invece più importanti in cui accompagniamo quel bambino veramente fino ai 18 anni. Certo perché il bambino è in evoluzione e anche diciamo i disturbi evolvono. I disturbi evolvono, i disturbi evolvono e i bisogni cambiano quindi il senso del nostro intervento è proprio quello di adattare continuamente gli obiettivi e il nostro lavoro in funzione della tappa evolutiva del bambino o del ragazzo successivamente. Questa è la mia stanza quindi dedicata alla fisioterapia che cerca di essere un ambiente accogliente, stimolante e personalizzato per ogni bambino. Qui un esempio di proposte di gioco all'interno di un percorso proprio accettivo e sensoriale poiché comunque il gioco nel nostro lavoro, nel mio lavoro la fa da padrone in quanto il gioco diventa un mezzo e uno stimolatore per quelli che sono gli obiettivi motori che noi dobbiamo raggiungere per ogni per ogni bambino. E ora torniamo in provincia di Ferrara a Codigoro dove è avvenuta un'eccezionale scoperta archeologica. Vediamo quale. Nel comune di Codigoro a Ponte Maudino è stato scoperto un migliaro romano, un antico cartello stradale con un'iscrizione interessante risalente al II secolo a.C. Scoperto durante i lavori di bonifica nel secolo scorso e custodito da una famiglia locale, il migliaro è un cippo cilindrico in trachite dei cogli ugani e di dimensioni ridotte rispetto alla maggior parte di questi reperti misurando poco meno di un metro. Utilizzati in epoca romana come segnaletica stradale, i migliari indicavano il percorso e spesso la distanza dai principali centri urbani, oltre a riportare il nome di chi aveva costruito o mantenuto quel tratto di strada. L'iscrizione indica una distanza di 250 miglia e attribuisce il migliaro a un certo Tito Agno, figlio di Tito, durante il suo consolato. Ci sono però ancora dubbi sull'interpretazione dell'epigrafe. Si ipotizza che le 250 miglia possano rappresentare la distanza da Roma lungo la via Flaminia sino a Rimini con la giunta dell'Emilia fino a Codigoro. Resta incerta anche l'identità del console, poiché il cognome non è specificato, potrebbe trattarsi di Tito Agno Lusco, console nel 153 a.C. o Tito Agno Ruffo, console nel 128 a.C. Nonostante l'interpretazione delle epigrafe reste incerte, il reperto però è di straordinaria scoperta archeologica e sottolinea l'importanza delle strade consolari per l'espansione della Repubblica Romana nel II secolo a.C. Per valorizzare questo importante reperto si è deciso di trasferirlo nel sito di Pomposa, dove verrà restaurato ed esposto al pubblico. Un'operazione organizzata dalla sovrintendenza archeologica delle Belle Arti di Modena, Reggio e Ferrara in collaborazione con la direzione regionale dei musei dell'Emilia Romagna, il gruppo archeologico ferrarese e dal comune di Codigoro che ha gestito la logistica del trasporto. E adesso passiamo allo sport. Come abbiamo sentito in questi giorni, la SPAL ha già iniziato da tempo le amichevoli e si avvicina alla nuova stagione. C'è stata anche la recente eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta Under-23. Ci sono anche in queste ore, in questi giorni, presentazioni dei nuovi acquisti bianco-azzurri di cui parleremo nei prossimi telegiornali, ma in questa edizione parliamo anche di basket. In attesa di sapere come si sta preparando il basket 100, la Benedetto, alla nuova stagione. Ferrara Basket 2018 sta già finendo le vacanze per la squadra della palla. A spicchi estense ci sono le date che hanno completato e stanno completando la pre-season bianco-azzurra. Allora, quali sono i prossimi appuntamenti che accompagneranno poi la squadra di basket di Ferrara alla prima stagionale? Lo sentiamo. Manca sempre meno all'inizio della stagione per la Ferrara Basket 2018 col gruppo squadra che si ritroverà nel pomeriggio di lunedì prossimo, 19 agosto, alla Bondi Arena per il raduno ufficiale aperto ai tifosi a cui seguiranno comunicazioni ufficiali da parte della società. La pre-season dei bianco-azzurri sarà particolarmente densa di impegni a partire dal giovedì 29 agosto quando alle 20.30 al Palace Salvatori di Consandolo si terrà la prima amichevole per Ferrara che sarà contro la cestistica argenta. Domenica 1 settembre si alza il livello quando alle ore 18 la Baltur Arena di 100 Ferrara sfiderà la Sella 100 in un derby contro una squadra, quella della Città del Guercino che gioca stabilmente in A2, un altro derby amichevole per i ferraresi mercoledì 4 settembre alle 18 quando alla Bondi Arena arriva la Quattro Torri Ferrara. E poi il 6 settembre la Virtus Padova, l'11 settembre il Bologna Basket 2016 e sabato 14 settembre la Virtus Simola. Infine nel fine settimana del 21 e 22 settembre la Bondi Arena di Ferrara ospiterà un torneo quadrangolare con i padroni di casa, i New Flying Balls di Ozzano, la Guerriero Padova e la BMR di Reggio Emilia. Tutte le partite in casa saranno a porte aperte e i bianco-azzurri sono così attesi da una pre-season intensa che culminerà con l'esordio nel campionato di Serie B Interregionale sabato 28 settembre contro Gorizia. Ancora sport per parlare di un bellissimo inizio d'agosto per il settore velocità del Canoa Club Ferrara sulle acque del Lago Albano nel centro federale di Castel Gandolfo a Roma al campionato italiano per le categorie ragazzi junior e under 23 il Canoa Club Ferrara si è giudicato ben tre titoli italiani, quattro argenti e quattro bronzi mentre a Parigi erano in corso le Olimpiadi sulle acque del Lago Laziale scendevano in acqua tutti i migliori giovani canoisti italiani, ovvero il futuro della Canoa nazionale tra loro anche appunto 14 atleti del Canoa Club Ferrara che avete visto premiati in queste immagini. e con lo sport si chiude questa edizione, io vi ringrazio e vi do appuntamento alle prossime edizioni del telegiornale di Telestense. Grazie a tutti.